salve a tutti un caro saluto da francesco samani in questo video parleremo di quello che potrebbe accadere domenica 25 settembre dalle ore 7 ossia si voterà per il rinnovo della camera dei deputati e del senato della repubblica ci saranno quindi le elezioni politiche in queste elezioni politiche ci sarà in ballo il futuro dell'italia perché si cominciano a intravedere i programmi delle diverse coalizioni e si comincia a intravedere quale potrebbe essere il futuro anche per quanto riguarda la scuola ma io metterei sempre prima di tutto il nostro paese che si fonda ovviamente anche sulla scuola sull'informazione sulla cultura ed eccola qua l'informazione perché per fare una scelta consapevole bisogna essere informati ovviamente informati e anche educati quindi la scuola è anche educazione perché educati perché è ovvio che a parità di informazione si avranno si potrebbero comunque avere dei voti completamente diversi uno dove mette dove si mette prima di tutti in risalto il proprio guadagno l'io che cosa mi conviene o che cosa penso che mi convenga votare per avere più agevolazioni per magari vivere forse possibilmente una vita più facile e poi ci sta anche chi pensa che prima di tutto venga sempre e comunque la comunità cioè anche se una legge può specificatamente non avvantaggiare me ma avvantaggia la maggior parte della popolazione per me è una legge giusta allora quando a un certo punto si cerca di divenire consapevoli ed informati poi a un certo punto comunque bisogna sempre fare una scelta tra noi stessi cioè tra la nostra comunità per se facciamo se decidiamo di fare una scelta per il bene di tutti o se invece cerchiamo di fare una scelta per il nostro bene solo per le nostre tasche ecco questo pure è un tema fondamentale un altro elemento importante che ho letto in tanti dei vostri commenti è la delusione la delusione profonda che c'è stata relativamente agli ultimi governi che ci sono stati in funzione pure delle delle elezioni passate si è voluta dare tanta fiducia in particolare al movimento 5 stelle perché sembrava essere nemmeno un partito un movimento diverso da tutti gli altri un movimento non legato le poltrone non legato i soldi contro la corruzione e in parte sicuramente nella sua natura più profonda lo era è solo che questo movimento è formato da persone e tutte le persone a un certo punto sono sono poste davanti a decisioni difficili perché a un certo punto è ovvio che per fare carriera ok venga venga sempre ci si può trovare sempre un video faccio delle scelte per la comunità o per me stesso per rimanere in politica e per cercare comunque di rimanere protagonista e molti elementi del 5 stelle del movimento 5 stelle hanno fatto delle scelte discutibili e essenzialmente il modello fondante anche apparentemente giusto bello etico del movimento 5 stelle probabilmente non ha funzionato perché si scontra con le personalità cioè si scontra con il modello morale ed etico delle persone che lo compongono e quindi è un modello che sembra non aver funzionato comunque tutti i saggi sono concordi nel dire che il momento peggiore per prendere una decisione è quella di prenderla di prendere una decisione nel momento in cui si prova rabbia rancore dilusione e guardate un po che strano noi dovremo votare per il futuro dell'italia in una situazione in cui regna la rabbia la delusione il rancore la dilusione per tante cose che sono andate storte e in virtù di questo cerchiamo di prendere informazioni informazioni dai mass media da giornali da il fatto quotidiano la repubblica la stampa il della sera da tweet da influencer da facebook da youtube in questo caso anche da me il anche se io cerco di non dare insomma delle indicazioni univoche ma di fare essenzialmente una analisi che potrei definire socio psicoterapica ossia metto al primo posto il soggetto sociale cioè la nostra società e ne vado ad analizzare o cerco di analizzarne la psiche e cerco di trovare una possibile soluzione in questo caso ovviamente prendo in prestito alcune parole che vengono utilizzate magari anche per tutt'altri motivi per psicologia clinica per psichiatria per curare disturbi psicopatologici di natura e identità diversa ma nella nostra società c'è o no una natura disadattata della politica e abbiamo dei sintomi c'è una sintomatologia grave a livello socio economico a livello di sviluppo a livello di benessere e quindi ecco qui che probabilmente noi abbiamo tanto bisogno di trovare una soluzione quindi una terapia alle problematiche di tipo sociale e allora cerchiamo di collegare adesso il tutto l'informazione mass media alla socio psicoterapia allora noi per prendere una decisione la prima cosa importante da fare è quello che ci dobbiamo informare e dobbiamo cercare di essere consapevoli e dobbiamo cercare di pensare come funzionano ad esempio dei punti di riferimento prendo uno dei giornali che leggo più spesso e che per me è un punto di riferimento la repubblica io adesso scrivo solo repubblica per brevità ok se io apro la repubblica adesso ma nell'ultima settimana negli ultimi dieci giorni sento parlare cioè leggo posso leggere tanti articoli di totti di ilary blasi e di noemi bocchi in particolare uno degli ultimi eh titoli eh noemi bocchi sarebbe incinta di francesco totti l'ultimo gossip che agita la roma ok queste sono storie a mio avviso altamente private non c'entra niente cioè totti è un punto di riferimento per la squadra di calcio la roma per chi magari non lo conoscesse bene ma eh dare continuo informazioni eh di tipo eh eh cioè relativamente alle situazioni personali private di totti di lary blasi in una situazione anche eh di non dimentichiamoci che c'è una guerra in Ucraina non dimentichiamoci che ci sono problemi eh di tipo energetico problemi di tipo sociale problemi problemi di disoccupazione problemi gravi diciamo no ok a me questo non sembra un problema grave un problema di coppia sì è un problema grave ma è anche un problema molto personale non è un eh problema di della nostra repubblica repubblica viene proprio dal latino res più pubblica res correggetemi res rei cosa pubblica quindi un qualcosa che di tutti quindi che cosa c'entra questo questa informazione o disinformazione cioè sono quei pettegolezzi che che la gente a volte ah ma ma tante volte veramente leggo su facebook e la gente non ne può più che cosa ne pensate dell'informazione pubblica in merito al covid ha creato aggregazione aggregazione unità equilibrio soluzioni agio o ha creato proprio il contrario disagio c'è stata tanto tanta disinformazione tanto disorientamento tanta paura tanta agitazione che poi inevitabilmente possono creare anche queste manifestazioni di disagio dei comportamenti ossessivo compulsivi che in un modo poi la questione è molto più complessa di così però questi pensieri vanno innanzitutto ad arricchire i giornalisti perché perché se io mi agito e cominciassi tutti i giorni a leggere bollettini sul covid oppure sulla guerra perché ho paura per la mia vita e per il mio futuro ovviamente comincio a leggere molto di più tutto quello che viene scritto in merito ad un determinato argomento quindi noi abbiamo dei giornali o anche dei telegiornali che fondano l'informazione su un'informazione equilibrata su tutto ciò che di bello e di brutto avviene o già dal titolo dalla sigla chiamiamola così sonora del telegiornale viene stimolata la paura la agitazione la fa senza vengono state per lo più notizie tragiche che ci coinvolgono e sconvolgono tutto questo a beneficio di persone che poi rimangono attaccate di più alle tv perché vengono stimolati determinati processi in cui viene liberata serotonina noradrenalina che creano poi una sorta di dipendenza e quindi ovviamente per avere maggiori maggiori pubblico maggiori spettatori le informazioni si basano su cosa rende ricchi gli informatori cioè chi parla il più delle volte parla per informare o parla per avere successo su quello che dice e quindi estremizza determinati particolari estremizza determinati contenuti e si perde la significatività di ciò che dice e noi non ci accorgiamo essenzialmente di essere presi per i fondelli perché diventiamo delle pedine che muovono un'economia di informazione disturbata ecco questo è il primo interrogativo che ci dobbiamo fare perché? perché per avere una buona informazione dovremmo poterci fidare di chi fa informazione e in questo momento possiamo? allora ci sono anche poi diversi tipi di informazione perché ovviamente i politici che cercano di fare informazione su se stessi informazione sui propri programmi secondo voi ci stanno dicendo delle verità o fatti di verità? cioè un qualcosa io ormai faccio sempre questo esempio tutti desideriamo che le tasse siano più basse tutti desideriamo poter avere più soldi chi ci promette di abbassare le tasse e basta ci sta dando un'informazione completa o ci sta dicendo un qualcosa che non significa nulla non significa niente perché non si capisce da dove prenderà i soldi relative ai mancati introiti delle tasse oppure peggio ancora se dato che lo Stato avrà ancora meno soldi ci saranno meno soldi per l'istruzione meno soldi per la sanità meno soldi per le pensioni meno soldi per le persone che poi hanno anche ovviamente avere meno soldi per i servizi pubblici significa andare a colpire soprattutto le persone più povere perché? perché la persona benestante non ha difficoltà a fare a prenotarsi visite private a pagare 100-200 euro per visite private a fare analisi private a prenotarsi una risonanza magnetica privata per non aspettare il pubblico a farsi radiografie private andare dal dentista a pagare migliaia e migliaia di euro e farsi magari direttamente un'assicurazione che copra magari tantissimi servizi e quindi si va verso ci si allontana essenzialmente dal welfare termine che solitamente viene tradotto in italiano con la locuzione stato assistenziale o comunque di stato neutro sociale con cui si indica un insieme di situazioni in cui lo stato interviene nell'ambito di un'economia di mercato che è la nostra per garantire assistenza ai cittadini benessere agli stessi cercando di modificare in modo deliberato ma regolamentato la distribuzione dei redditi generate dalle forze di mercato stesso cioè c'è chi guadagna tantissimo c'è chi guadagna molto di meno è ovvio che in una situazione libera di mercato questo crea disuguaglianza e noi cittadini italiani abbiamo questo delta euro questa differenza di guadagno che ci mette in difficoltà a creare contrasto e quindi lo stato interviene per garantire cercare di assicurare a tutte le categorie sociali servizi pubblici fondamentali quali? sanità abbiamo visto quanto è importante istruzione scuola e diciamo forze forze dell'ordine ne menzioniamo tre quindi anche benefici fiscali controllo del mercato immobiliare lavorativo un tenore di vita minimo in questo caso abbiamo tante volte sentito parlare del reddito di cittadinanza la sicurezza di sopravvivenza in situazioni di emergenza o di pandemia quindi catastrofi naturali pandemie guerre e anche cerca di garantire per categorie particolarmente diseggiate l'accesso a servizi fondamentali pensiamo a tutte le persone che non hanno responsabilità e magari sono nate down e hanno bisogno di una legge che permetta loro di vivere in maniera dignitosa cercando di seguire principi di più che uguaglianza di equità tra i cittadini e di diritto per tutti a pari opportunità guardate questa figura adesso guardiamola bene e adesso rivediamo i concetti di uguaglianza ed equità vediamo che cosa significa essere uguali con tutti quindi facciamo un esempio metto una tassa uguale per tutti e do a tutti essenzialmente in percentuale faccio pagare la stessa tassa quindi uguale e poi vediamo invece una tassazione quella che c'è adesso che tra l'altro rispetta l'articolo della costituzione 53 dove si cerca l'equità allora l'uguaglianza è questa è ovvio che se questa persona guadagna tanto e questa persona guadagna molto di meno in euro la persona le persone la classe di persone una parte della società rimane esclusa nella figura sinistra possiamo vedere come solo due persone su tre accedono a determinati diritti in questo caso è un esempio banale figurativo il diritto di vedere una partita di baseball cos'è il concetto di equità è quello che do in funzione delle necessità ridistribuisco la fetta dei beni garantendo cercando di garantire a tutti perché il mondo poi reale è molto più complesso una ridistribuzione che cerca di essere equa che cerchi di essere equa perché poi alla fine è gli errori in quanto esseri umani come diciamo quelli che magari operano ed operano con le migliori ragioni del mondo quindi abbiamo capito che i mezzi di informazione sono fondamentali per prendere consapevolezza e per fare una scelta perché per fare una scelta bisogna essere informati dopodiché bisogna decidere ma questa è una cosa soggettiva e ovviamente non è mai tutto o bianco o nero c'è sempre una via di mezzo quale scelta fare se orientarsi più per la comunità o più per il benessere personale dopodiché vi è il futuro il futuro per i giovani i quali potranno essere liberi solo se informati ed educati e qui diventa basilaria la scuola l'informazione l'educazione la preparazione del personale docente il trattamento del personale docente e ovviamente l'ordine all'interno all'interno dello Stato quindi tutto quello che è la forza dell'ordine scuola che interviene dalle primissime fasi della vita e forze dell'ordine dopodiché statisticamente comincia a diventare molto molto importante la sanità che garantisce la possibilità a tutti la sanità pubblica ovviamente di potersi curare di poter vivere in maniera dignitosa e a questo punto fatta questa premessa ci chiediamo qual è il futuro dell'Italia che cosa ci stanno promettendo i nostri politici e che cosa possiamo fare se siamo veramente poi liberi di scegliere che cosa possiamo fare perché in realtà una scelta veramente libera è una scelta tra tantissime possibilità la possibilità 1, 2, 3, 4, 5 fino a 100 io scelgo di tante possibilità quella che mi aggrada di più ma noi non siamo di fronte a una situazione di scelta libera noi possiamo scegliere essenzialmente adesso semplifico tutto una coalizione di centro destra o una coalizione che chiamiamo di centro destra e centro sinistra poi ovviamente anche qui la questione è molto più complessa e vediamo quello che ci stanno promettendo vediamo quello di cui stare attenti io per ora per quanto riguarda il centro destra sono molto preoccupato per la tassa piatta fatemi sapere che cosa ne pensate voi nei commenti che è un'idea ovviamente non nata in Italia ci sono diversi stati del mondo repubbliche presidenziali semipresidenziali che la attuano la Bulgaria al 10% la Lettonia l'Albania la stessa Russia l'Ucraina sono in parte preoccupato per qualcosa che viene detto insomma relativamente anche alla storia del politico Meloni ognuno di noi si può andare a approfondire queste cose e anche sinceramente perché finora non ho tirato in ballo né Fratelli d'Italia né Forza Italia sinceramente sono preoccupato sia per la Meloni sia per Berlusconi e sono preoccupato per un clima ovviamente di rabbia perché in un clima di rabbia probabilmente la scelta che si verrà a fare la scelta che faremo non sarà la scelta giusta e al momento io penso che il centrodestra sia favorito cioè io penso che è probabile che vinca il centrodestra e se ciò dovesse avvenire insomma spero che comunque il centrodestra abbia la possibilità di governare veramente perché in questi anni qual è stato un altro grande problema la situazione di quasi ingovernabilità la situazione in cui si è vero il Movimento 5 Stelle ha ottenuto molti voti ma il Movimento 5 Stelle da solo non poteva fare nulla ha chiesto alla sinistra e niente ha chiesto alla destra niente poi si è dovuta dovuta scendere a compromessi con la Lega il primo governo è stato con due sottoministri uno del Movimento 5 Stelle e l'altro della Lega e Conte come premier e ovviamente anche l'ingovernabilità è una situazione o la governabilità parziale è una situazione pericolosa dall'altra parte abbiamo il centro-sinistra il centro-sinistra che ovviamente ripeto un conto sono le promesse e un conto sono i fatti però almeno che sta facendo nel proprio programma sta mettendo nel proprio programma la centralità dell'importanza della scuola sento però di che cosa sono preoccupato si parla molto molto poco della sanità sappiamo insomma che il presidente della regione Lazio probabilmente per la sanità ha lasciato molte persone deluse non voglio dire se ha fatto bene o se ha fatto male quindi sono preoccupato qui sono preoccupato di meno cioè in realtà sono per quanto riguarda la scuola purtroppo ogni governo mette mano all'interno della scuola io non capisco perché per esempio hanno tanta paura a mettere mano per riformare per esempio la giustizia o magari la situazione dei giudici che possono giudicare e rimanere sempre impuniti e ogni governo poi vuole mettere mano al proprio modello di scuola inventandosi prima le SIS poi il TFA poi la buona scuola di Renzi e altro altro i concorsi STEM i nuovi concorsi ordinari i concorsi straordinari il concorso straordinario BIS il BIS BIS i banchetti con le rotelle eccetera eccetera essenzialmente siamo in una situazione confusionaria e io penso che sia responsabilità di ognuno di noi di cercare di essere un modello un modello che può cercare di aiutare ogni cittadino ogni persona che conosciamo a informarsi a diffondere notizie corrette modelli di vita corretti opinioni rispettose vi ringrazio che molti di voi sono rimasti meravigliati da un commento in particolare che c'è stato avverso nei miei confronti che cercava di colpirmi da un punto di vista personale quando alla fine stiamo cercando solo di affrontare degli argomenti senza poi prendere di mira nessuno senza giudicare nessuno perché è brutto cercare di giudicare di giudicare personalmente gli altri come dico sempre come ripeto sempre se vogliamo migliorare la nostra vita dobbiamo prima di tutto cercare di capire quali sono i nostri errori e gli errori che facciamo e modificare prima di tutto noi stessi poi per carità se siamo diventati così bravi se siamo così bene se siamo così felici possiamo anche pensare di aiutare gli altri e di dare dei suggerimenti agli altri ma non non porta a nulla non porta non serve a niente cioè serve solo a distruggere quello la situazione nella quale ognuno giudica l'altro anche magari con parole cattive e parole che portano ostilità divisione frammentazione bene fatemi capire voi se apprezzate anche questi tipo queste tipologie di video ovviamente in questo canale io ho sempre scelto la libertà la libertà di poter affrontare tutto la libertà di parola la libertà di non scegliere argomenti in funzione dei click tante volte avrei potuto ottenere maggior guadagno personale trattando argomenti ovviamente che sono dietro le esigenze di tutti no io cerco essenzialmente di affrontare ciò che reputo importante cercando insomma di non inseguire a tutti i costi la performance ma cercando soprattutto di seguire il mio credo cercando di seguire la mia etica cercando di pensare di cercare di fare del bene con tanti errori sicuramente ne faccio tanti ma con il desiderio di farne sempre meno e di aiutare sempre più persone io con questo vi ringrazio ringrazio tutte le persone che mi hanno regalato e dedicato tanta disponibilità per ascoltarmi fino a questo punto vi auguro veramente tanta serenità tanta felicità una buona continuazione di giornata una buona continuazione di settimana e al prossimo video grazie un caro saluto da Francesco Samani